Prima settimana di ritorno a scuola nella normalità, possiamo dire, professoressa per gli studenti del liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara. Proseguono gli screening, c'è qualche novità anche con il nuovo DPCM? La bellissima novità è che finalmente la scuola riaccade anche in presenza e quindi siamo veramente felici anche perché è importantissimo per i ragazzi. Il nuovo DPCM conferma la possibilità di arrivare fino al 75% in presenza, minimo il 50% in presenza come abbiamo sperimentato questa settimana e si può arrivare fino al 75%. Aspettiamo a riguardo ordinanze regionali. Io mi appello a tutta la comunità, cioè a tutta la società, è importante che i ragazzi ritornino in presenza e in tutta sicurezza. Per questo il tavolo prefettizio con il nostro provveditore hanno lavorato tantissimo per il piano trasporti perché il punto era lì, era nei trasporti. Sono stati fatti investimenti, la regione è intervenuta, quindi ha ampliato il parco macchine, il numero di corse con le macchine. Speriamo di tornare veramente a scuola. È importante, è importante per il futuro dei nostri ragazzi, è importante per il futuro della nostra Italia. Tra lunedì e martedì finiamo lo screening di massa, i tamponi. Come stanno andando? Bene, benissimo. Abbiamo fatto tutto il personale, tutti gli studenti finiamo lunedì e martedì. Questo è importantissimo, è stato un abbraccio concreto alla scuola, alla sicurezza, al rientro in sicurezza. E come chiedono anche i ragazzi, il comitato spontaneo dei ragazzi, chiedono proprio che questi screening abbiano cadenza periodica, proprio per garantire una sicurezza. Intanto l'ASL di Pescara l'ha fatto a tutte le scuole. Stiamo proprio concludendo in questi giorni e questo è un bellissimo segnale. Dobbiamo riprendere a vivere con speranza per sconfiggere questo virus.